Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Padova dopo un lungo lavoro di pedinamento e osservazione e hanno arrestato in fragranza di reato tre tunisini, noti spacciatori con precedenti. Si spostavano in auto per recuperare poi lo stupefacente nascosto e per consegnarlo. Ora si trovano in carcere. Tutto è cominciato quando i baschi verdi hanno notato gli strani movimenti di due pregiudicati nordafricani a bordo di una lancia Y annuale. Ebbene, è ricostruito il loro modus operandi e scoperto che i tre si spostavano usando questa lancia Y e un'altra auto. I militari hanno teso a loro la trappola, sfruttando due delle decine di consegne giornaliere. Li hanno intercettati con due posti di blocco, uno annuale e l'altro invece a Perarolo di Vigonza. Scoperti con 150 grammi di cocaina ed oltre 7 mila euro in contanti, sono stati poi arrestati. KH, un altro KH e HM, tutti pregiudicati che ora si trovano nelle carceri di Padova e di Venezia. Ecco l'ennesimo sgambetto del Movimento 5 Stelle agli abitanti del Veneto. Ulteriori tasse per 100 milioni di euro all'anno per pagare la manutenzione delle paratie del MOSE che dovranno garantire la protezione di Venezia dall'alta marea. Una cifra stellare stimata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato dal Ministro 5 Stelle Danilo Toninelli inserito in un emendamento specifico al decreto sblocca cantieri dedicato proprio al MOSE. L'emendamento del Ministero di Toninelli stabilisce il passaggio di consegne allo storico magistrato alle acque abolito dal governo Renzi ad un commissario straordinario per il MOSE di Venezia che assume direttamente le funzioni di stazione appaltante per completare i lavori. Il capitale sociale della società pubblica secondo il MIT proverebbe anzi proverebbe dallo stesso di Castero, dal MEF, dal Mifal, dal Mibac e dalla regione del Veneto con 15 milioni di euro ciascuno. E poi ovviamente qui la protesta del governatore Luca Zaia che dice il MOSE è un'opera pubblica nazionale e quindi l'opposizione netta alla decisione del Ministro dei Trasporti. Dopo un sequestro durato 55 giorni il cadavere del Presidente democristiano Aldo Moro venne ritrovato il 9 maggio del 1978 nel portapagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani a metà strada tra le sedi della democrazia cristiana e dell'allora partito comunista italiano. Il rapimento del Presidente democristiano era avvenuto il 16 marzo del 78 quando un commando sequestrò l'onorevole Moro in via Fani a Roma uccidendo i cinque agenti della scorta. Oggi in piazzetta Aldo Moro il ricordo di questo triste vendo per l'Italia e la commemorazione dinanzi alle autorità militari civili tra cui anche il prefetto di Padova e il sindaco Sergio Giordani. Vediamo. anche qui a Padova. E' certo la guardia non può essere abbassata indubbiamente il rischio terroristico c'è a Padova come c'è in tutto il mondo e purtroppo i fatti lo hanno dimostrato. Il nostro impegno appunto quello delle forze di polizia e della magistratura è di lavorare sul lato, sul fonte prevenzione e penso che dobbiamo onestamente riconoscere che il nostro paese poi tutto sommato ha saputo dare buona prova in questo senso considerando che rispetto ad altri anche paesi europei per fortuna non siamo stati toccati da quei episodi diciamo drammatici e sanguinari che ci sono stati in altre città. Questo non significa appunto che possiamo dormire sonni tranquilli però certamente possiamo dare quella tranquillità e quella sicurezza che è poi la grande strumento, la grande arma che ha la popolazione cioè quella di continuare a vivere normalmente, di godersi la loro città e ovviamente con quelle cautele che il mondo di oggi vuole a tutti di avere. È una giornata importante e va vissuta in maniera importante. La squadra mobile ha arrestato Visedom Davide Liberiano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica verso il Tribunale di Vicenza per scontare 7 anni e 7 mesi di carcere. L'uomo che è stato rintracciato ieri mattina nei pressi della propria abitazione a Servazzano dentro in provincia di Padova dove viveva con alcuni connazionali nel 2010 a Vicenza si era reso responsabile in concorso con altre persone rimaste ignote di una aggressione ai danni di altri cittadini tunisini commessa con della sostanza corrosiva che aveva procurato alle vittime delle gravi ustioni al volto. L'uomo è stato già associato alla casa circondariale due palazzi di Padova. Parliamo della manifestazione che si è tenuta questa mattina al Parla Geox, manifestazione nazionale indetta dai sindacati SPI, FNP, WILP e WIL per il 1 giugno a Roma che è stata spostata da Piazza del Popolo a Piazza San Giovanni per le altissime adesioni registrate in queste ore tra i pensionati di tutta Italia. Tale decisione descrive il clima di insufferenza e di insoddisfazione nei confronti delle politiche adottate finora dal governo che hanno penalizzato ancora una volta milioni di persone anziane. Vediamo. Sotto le figie, dateci retta, praticamente ci si ritrova il primo di giugno a Roma ma prima a Padova ovviamente 1200 persone, 1200 pensionati si sono trovati a discutere di questo grave problema e di questo scontro che sta avvenendo contro il governo attuale. Sì, questa è una delle assemblee programmate nel territorio che prepara la grande manifestazione del primo giugno e che segue la manifestazione del 9 febbraio. Quali sono gli argomenti principi e le richieste che vengono fatte al governo? Allora, generalmente l'argomento principale è lavoro, fisco e soprattutto la tenuta del potere d'acquisto delle pensioni. Poi l'altro aspetto è quello della sanità, una sanità efficiente e pubblica per tutti e la tutela della non autosufficienza. Quando parliamo di sanità parliamo anche del Veneto, il Veneto comunque eccelle nella sanità. Il Veneto è stata una delle eccellenze ma con le scelte fatte ultimamente sulle schede sanitarie e con la chiusura di alcuni ospedali rischia di aprire dei pericolosi vuoti in alcuni territori. Persone non numeri è il titolo di Report 2018 di Caritas Padova, redatto dall'Osservatorio della Povertà e delle Risorse che viene presentato proprio oggi alla presenza del Vescovo Claudio Cipolla. Giunto alla sesta edizione il Report riporta i dati raccolti nel 2018 nei centri di ascolto di Ossesano e Vicadiari nei servizi poi Caritas di Padova. Persone non numeri dicevamo perché se i numeri del caso di quest'anno da soli possono ingannare ricordiamo a fronte di una diminuzione che si attesta intorno all'8,5% delle persone che si sono presentate agli sportelli di Caritas nel territorio non corrisponde infatti alla verità di diminuzione della povertà e guardando le storie e i volti e le persone che si coglie il senso di questa flessione come ha spiegato anche Don Luca Facco, direttore di Caritas Padova, presentando i dati. Vediamo. Sì, nel dato assoluto abbiamo una flessione di persone che si sono presentate ai nostri centri di ascolto in particolare da parte delle persone di origine non italiana perché molte hanno scelto o di rientrare nel loro paese o di cercare fortuna in altri paesi europei e invece notiamo che più che dal punto di vista quantitativo la vera questione è dal punto di vista qualitativo, cioè la gravità della povertà che non è solo esclusivamente economica ma è molto più profonda e richiede percorsi molto più lunghi e impegnativi. Altiero Spinelli è considerato padre dell'Europa Libera e Unita, fondatore nel 1943 del Movimento Federalista Europeo poi cofondatore dell'Unione dei Federalisti Europei, membro della Commissione Europea dal 1970 al 1976 per questo a Padova e in tutta la provincia. Oggi i circoli e gli amministratori del PD hanno presentato nei vari comuni una mozione per intitolare una via o una piazza ad Alterio Spinelli, padre dell'Europa, cittadino europeo e faro della integrazione. Vediamo al Salone dei Sapori che non è un semplice food festival ma un evento che punta a valorizzare le eccellenze della città per farle scoprire dentro e fuori dai confini di Padova, dal Palazzo della Ragione, il suo antico mercato coperto sotto il Salone, passando per Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta. Ricordiamo che a fine settimana ci sarà un cooking, il meglio della cucina locale e dei vini del territorio che non mancherà nemmeno nei bar, nei ristoranti e nei locali del centro storico che parteciperanno appunto a fuori dal Salone. Fondazione Salus Pueri e Comune di Padova insieme per i bambini della pediatria, giocatori in momenti di sport, tornei, esibizioni sportive, pallavolo, atletica, calcio, scherma, danza e arti marziali. Insomma molto altro in Prato della Valle domenica 19 maggio 2019. L'iniziativa è stata presentata in Sala Bresciani alla presenza del sindaco Sergio Giordani, dell'assessore allo sport Diego Bonavina e del comandante delle forze operative Nord. Signor sindaco, ancora una volta sport e solidarietà insieme? Una cosa bellissima, domenica 19 maggio in Prato della Valle, già essere in Prato della Valle aiuta moltissimo perché sarà una bellissima giornata di sport e di solidarietà. E tutto a favore del pediatria di Padova che è vitale per i nostri figli, i nostri nipoti, è gestita benissimo. Tra poco cominceranno i lavori anche di pediatria, finalmente non avremo solo medici e professori eccezionali, ma avremo anche strutture eccezionali. Per cui invito tutti i padovani a venire, non solo i bambini, perché i bambini è divertissimo, ma tanti genitori per fare una grande festa, perché sia veramente a raccogliere contributi sostanziosi perché il tutto va per il pediatria che è una cosa molto importante per il Padova. Torna a Caffè TV 24 anche stasera l'appuntamento del giovedì sera con Alberto Salmaso e il Tarlo. In studio, oltre alla collega Alessandra Natali, si debiterà sul titolo politica ed economia e non che fisco tra dazi e controlli sui conti correnti. Interverranno Gianfranco Vezzaro di Fratelli d'Italia, Tiberio Businaro della Lega, Andrea Bernardini del Movimento 5 Stelle, David Borrelli europarlamentare di Più Europa, Enrico Scacco del Partito Democratico, Orfeo Sartori della Selvazzano Civica. Parliamo anche del degrado di Via Bernina. Di notte cibo e bevande sono vietati nei vari circoli. I clienti di tre locali non potranno più consumare all'interno e all'esterno dalla mezzanotte alle sei. Da tempo i residenti ormai si lamentano per schiamarsi fino all'alba e la presenza soprattutto di spacciatori. Torna in campo l'ipotesi di chiudere l'accesso all'area e modificare la viabilità della strada. Vediamo cosa ci ha detto il sindaco di Padova, Sergio Giordani. È una situazione molto difficile che stiamo monitorando in continuazione. L'idea è quella che stiamo ragionando per chiudere Via Bernina e aprire da un altro lato, dall'altro del circolo della circonvallazione, un altro accesso. Non è facile, stiamo ragionando con i proprietari del terreno, i loro pubblici sono quasi arrivati alla fine di questo percorso. Non siamo mai veloci a fare niente, è un po' difficile fare con la mia mentalità, fare tutto domani, però non funziona così. Dobbiamo farlo con calma, tranquillità, ma io penso che entro un mese, un mese e mezzo dovremmo risolvere il problema. E basta il 324. È tutto per questa nostra edizione del giornale, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Non prima però di avervi raccomandato il nostro sito www.caffetv24.it per rimanere costantemente aggiornati.